L'Oca non trova posto veramente, questo momento è entrata, è entrata già a casa, è partita la giraffa, la giraffa va al primo San Martino con Tittia Basantesa, c'è la giraffa davanti, poi il Bruco, la Pantera, quindi L'Oca va giù a San Martino, va giù a San Martino e dunque la Pantera va avanti, è caduto Tittia, Pantera davanti, al primo casato, sta per più del primo giro. Caduta anche L'Oca, caduta anche L'Oca, dunque due cavalli scossi, Pantera davanti, quando siamo esattamente a metà palio, si avvicina al secondo San Martino, c'è la Pantera davanti al Bruco, Pantera in controllo, poi c'è lo scosso dell'Oca in questo momento, con la torre, Pantera sempre avanti, Pantera al secondo casato con un buon vantaggio, Pantera in controllo al secondo casato, scompiglio e anda e bola, cominciano l'ultimo giro, Cominciano l'ultimo giro, alle spalle il Bruco, poi lo scosso dell'Oca, quindi la torre, l'ultimo San Martino, affrontato in controllo, anche se la distanza va giù, va giù. Oddio, lo scosso dell'Oca. C'è l'Oca davanti con la torre che prova a ritornare, torre Oca, all'ultima curva, Oca, davanti alla torre, va giù anche la torre, dunque vince il cavallo scosso, vince il cavallo scosso. L'Oca, clamoroso, clamoroso con la Pantera che era avanti, in pratica fino all'ultimo San Martino.